e si comincia buongiorno altro giro in altura oggi siamo usciti un po' tardi il mare è perfetto non sembra neanche una giornata di metà settembre noi oggi ci siamo belli aspettative vediamo bene a dopo, ciao siamo in bolla, dai io devi giocare sta scappando guarda quanto è? bella bella ma è un caponazzo, è una caponazza no, è l'imperiale andiamo, qui levo? che ce l'hai su rapala? no, no, si levo è stanza la liria è stanza è stanza non ti aspetta Luca, dammi la mia dammi, dammi la mia aspetta ah, quello che ci vien c'è non ti aspetta non ti aspetta non ti aspetta farebbe che vogliamo fare? allora tagliali tagliali taglia taglia taglia, taglia piano solo e non la mia calma 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 gira 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 basta vai dritto vai dritto niente, non riesco neanche a contrastare non va tanto tanto il cuore non da nulla si sta superando si lo so ma forse devo andare stare così rimani così così recuperiamo un po' perfetto non ci sta superando non ci sta superando non ci sta superando ci sta camminando fino a più siamo precisi del giro sta berendo lecce si sta superando si è presa 200 metri di giro si è presa si si prendendo tutta la monopera bravo non fatti tira 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 non fatti ancora 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 è bello non fatti tira gira verso destra se ne sta andando di là gira verso destra verso destra verso destra vai 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 che ti sta superando di qua bata sta curando per la ultima ora saura non c'è vuole ci dovremmo essere ma quando va ancora lontano in via si qua siamo ben quindi cosa ha detto te la stai godendo? vai 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 hai visto? come la vuoi adesso? così 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 che te la tiriamo di fuori che abbiamo la murata aperta ma non pensavo Luca cammina che ci sta superando Luca cammina la vedi? io la vedo si si, guarda, guarda la tipiciamo è qua, è qua io me ne faccio un vento ah non fare niente aspetta, perché è qua? no, no, no questo pescica salto questo pescica salto finca però il girato va bene Ciccio, Ciccio, raffiammare Ciccio Ciccio dai 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 piano, piano, piano da questa là, da questa là qua 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 va bene va bene va bene va bene va bene ula è l'ultima della bubba via ultima è boom 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 vai venite venite e allora che pescicolino? che pescicolino? yeah imperialo nole vieni vai guardate guardare le cose vai siete guardate guardate sono guardate però non la Grazie per la visione